Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Fa discutere l'ultima sortita temeraria dell'arcobalenico e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger che ha fatto un dispettuccio per così dire a Donald Trump dicendo testualmente che il suo rivale è un bambino. Proprio così Biden ha detto che gareggia con un bambino, con ciò alludendo al fatto che, a suo giudizio, Donald Trump non è una persona matura ma è un bambino capriccioso che come un bambino si comporta. Ora sicuramente le politiche di Trump sono criticabili, noi stessi l'abbiamo fatto in più occasioni. Ricordo a tutti per inciso che fu Donald Trump nel 2017 a deregolamentare ulteriormente la finanza a beneficio del grande capitale finanziario, altro che America First, Banks First si potrebbe ben dire. Ciò detto, chiarita la nostra posizione critica verso Trump, come sapete non siamo meno critici verso l'arcobalenico e vegliardo Biden, anzi come più volte ho evidenziato, peggio di Trump c'è solo Biden, che con questa ironia fuori luogo peraltro rivela di non avere grandi argomenti contro Trump, anche perché poi le politiche negli Stati Uniti dei repubblicani o dei democratici, al di là delle nuance, sono ugualmente allineate al verbo unico neoliberale e all'imperialismo ben noto di Washington. Si potrebbe ugualmente mettere in mostra tutta una serie di contraddizioni anche nel modo di agire di Biden, che dava la mano a persone inesistenti o che è ruzzolato dalle scale, quindi se uno è un bambino l'altro è un anziano incontinente, si potrebbe dire malignamente, ma non è sicuramente il nostro caso e dunque ci limitiamo a commentare questa uscita particolarmente infelice di Biden.